Caro saluto agli amici di Bellesserem, quest'oggi desidero presentarvi un olio essenziale davvero importante, è il Kajeput, così come qualcuno ama chiamarlo. È un olio essenziale balsamico, uno dei più intensi, anche perché soprattutto in questo periodo, in caso di raffreddore, in caso di bronchite, mal di gola, è veramente l'ideale. Basta mettere alcune gocce in una tazza molto molto calda, quindi aspirare i vapori perché davvero ha la capacità, questo olio essenziale, di purificare le vie respiratorie. Oltretutto purifica anche l'aria ed è eccellente, pensate, in alcuni casi, in caso di mal di denti, potreste utilizzarlo proprio mettendo soltanto una goccia direttamente sul dente. Quindi fate questa prova, non vi auguro, chiaramente non vi augurerò mai un mal di denti, ma in tal caso è un olio veramente importante. Poi interviene davvero in maniera notevole sui crampi allo stomaco, ragion per cui veicolato con un olio vegetale, questo interviene davvero in maniera notevole sui crampi allo stomaco. Tante altre cose si possono sviluppare con questo prodotto, addirittura è specifico per coloro i quali soffrono di asma perché davvero il suo potere balsamico determina proprio negli asmatici uno stato di estremo benessere. Potete trovarlo da noi, quindi noi siamo di Bellesserem, via De Vito Francesco, 6B a Bari.